Prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi alla mia pagina youtube, di attivare la campanellina per le notifiche, di lasciare un bel like e di lasciare un bel commento qua sotto al video. Seguitemi sulla mia pagina instagram, anche sulla mia pagina facebook. Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi, visto che è il mio compleanno, volevo farvi un video vlog sulla mia giornata e di come la passerò. Intanto mi sono appena alzato, andrò a lavarmi la faccia, è meglio che faccia anche un po' di barba perché si sta esagerando. Faremo colazione e dopo faremo qualcosa. La faccia l'abbiamo lavata, adesso facciamo colazione. Colazione fatta, ora facciamo la barba. Bene, barba fatta. Ragazzi belinca sono, pare quasi più giove. Ora mi cambio e vado a prendere il pane. Spesa fatta, ho preso anche un po' di carota e un po' di sedano per fare il pomodoro fresco che magari oggi farò una ricetta sulla pasta al pomodoro base. Però non vi faccio vedere il video. Ho anche il negozio dove ho portato la bici, lo ho chiamato, perciò pomeriggio vado a prenderla. Allora mi preparo tutta la divisa, le scarpe, il casco per andare in bici e mi fermo da un mio amico e faremo l'allenamento insieme. Allora intanto prepariamo la roba. Allora ventina, maglietta, calzetti, guanti, maglietta, braghe, scaldacollo, mezze maniche. Adesso mettiamo di là questo. Perché parto già da casa vestito, mi metto sopra questa roba da casa. Così, dopo prendiamo la ventina, le scarpette, scarpette, occhiali, casco, questo e questo e le vado a mettere in macchina. Perfetto, per intanto abbiamo fatto tutto. La divisa è pronta a essere indossata. Le scarpette, il casco, gli occhiali, la lucetta, il Garmin è qua. Il resto è in macchina. Altro mascherina ce l'ho, basta diciamo. Allora, adesso cosa potrei fare? Donna ha sistemato la casa dai, proprio easy. Io ho dimenticato la pompetta e la borraccia. Già pronte. Bene, casa sistemata, adesso mi preparo pranzo. Ci vediamo. Ok, adesso finisco di vestirmi e parto per direzione Levi. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, siamo arrivati a prenderla bici. Adesso la prendo, aspetto il mio amico e dopo andiamo. E se riesco vi faccio vedere anche qualche foto di dove siamo. Bene, anche il giretto in bici l'abbiamo fatto. La bici l'ho portata a giustare, l'ho ripresa, l'ho riportata a giustare. Tutto è un casino oggi, guarda. Oggi è un compleanno strano da dimenticare. Comunque, nonostante tutto, ci siamo fatti un bel giretto. E' andato fino a Borgo, Roncegno. Non è piovuto, abbiamo beccato una bella giornata. Sono proprio contento. Adesso mi cambio e vado a casa. La bici l'ho portata a giustare. La zona della Val di Non. Bene, appena arrivato a casa. Diciamo che per oggi questa giornata finisce qua. Tanto più tardi non farò niente di particolare. Più che guardare la televisione, farmi la doccia, eccetera. Quindi spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un bel like che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un commento nella sezione commenti per dirmi se questo video vi è piaciuto. Questo video è registrato tutto in 4K a 60 frame per secondo. Quindi fatemi sapere la vostra se questo video vi è piaciuto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao.